ciao a tutti oggi prepareremo il gelo di cannella il tempo di preparazione della ricetta di 30 minuti più 12 ore di infusione 6 ore di riposo in frigo ingredienti sono acqua cannella in stecche amido e zucchero andiamo via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e la cannella ed azioniamo il bimbi per 15 minuti 100 gradi velocità 1 trasferiamo in una ciotola lasciamo in infusione per almeno 12 ore trascorso il tempo andiamo a filtrare il composto con un colino a maglie strette abbiamo filtrato il composto adesso mettiamo nel boccale lo zucchero l'amido il composto di acqua e cannella ed azioniamo il bimbi per 15 minuti 100 gradi velocità 4 il composto è pronto trasferiamolo in uno stampo per budini da 22 24 centimetri lasciamolo riposare in frigo per almeno sei ore trascorso il tempo abbiamo ripreso il gelo dal frigo adesso sformiamolo e serviamo gelo di cannella grazie e alla prossima ricetta ciao 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 Grazie a tutti.